ragazzi welcome back sono michele in formato zen quello che comporta in realtà è la calma il poterci garantire un'esperienza divertita insieme nella quale possiamo sfruttare al massimo tutte le abilità bene veramente tooth on touch in altre parole noi scorreggeremo se veniamo colpiti con il blue baby che ha i soul hearts ragazzi perché dopo aver ottenuto la scorreggia a contatto ci bacca soltanto di prendere un altro oggetto passivo inutile come un hp app provate a immaginare un hp app con il blue baby è la cosa più inutile dopo un hp app con dell'os no un hp app porca miseria davvero non mi interessa la fretta voglio godermela voglio cercare di ottenere anche dei buoni risultati che cazzo è successo la mosca tre chiacchi grazie la mosca la mosca la mosca la maledetta mosca la schifosissima maledetta mosca allora questo piano allora lo voglio maledire no non è vero ho promesso di fare una partita zen in cui otteniamo tutti i risultati possibili speriamo bene range down ma veramente poteva essere un cavaliere no merda mike mike cazzo è andata malissimo questa boss fight malissimo attaccate cosa mi ha danneggiato il suo la sua urina la sua urina mi ha danneggiato a questo punto ci servono tre monete per ottenere sack boy porca miseria attenzione allora ah lo sapevo per quale motivo adesso solo perché sto riuscendo a ottenere qualcosa devo come al solito lasciarmi andare no no non esiste mike gioca zen come hai fatto fino adesso allora no mannaggia creatura maledetta di ai 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 mike mike calma figata guarda scusate questo piano lo abbandono perché senza vedere i miei hp non mi sento sicuro di quello che faccio abbandono il libro di bellaia perché lo adoro ma volare è volare e come no ma porca miseria però vedete che è stata una cosa utilissima avere cosa perché stiamo scherzando siete seri siete davvero seri è orribile muori puttana devi morire devi assolutamente esplodere io non ci posso credere ah ah ti piace isaac la vendetta di sabacuno maiko la vendetta di mike ti eccita l'idea di morire brutalmente subendo tutto questo perché adesso io ho tutte queste belle moschine e le tengo tutte solo per sheol andiamo al boss ora non devono essere sprecate per questi merdoni eh attenzione non attiviamole per nessun motivo non avvicinatevi non avvicinatevi mi servite no mi servono no non secchiantatevi che queste merda le ho sprecate tutte vaffanculo avete visto nel modo più assoluto la fine di un uomo praticamente cioè l'apoteosi dell'ira probabilmente a livello tra pratico dovre perca puttana mike stai zi porca puttana mike che cazzo oh oh porca puttana mike porca puttana non puoi uscirmi da sotto il culo così dobbiamo pensare molto bene alle scelte e porca puttana porca puttana mike cazzo ma per oh porca puttana no la moschina vedete porca puttana porca puttana troppe troppe imprecazioni in questi gameplay mike devi essere un pochino più 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 abbiamo cominciato una partita zen ed è finita con le imprecazioni stellari mi piace mi piace mi piace Grazie a tutti.